E' un segnale importante, visto che gli avvocati molto spesso sono coloro che danno la caccia ai giornalisti in caso di guerriere causa civile. Un protocollo d'intesa tra gli avvocati di Messina e i giornalisti per la tutela della libertà di stampa sarà sottoscritto sabato prossimo dal presidente dell'ordine degli avvocati di Messina, Vincenzo Sciraulo, il presidente dell'ordine dei giornalisti di Sicilia, Giulio Francese, il consigliere nazionale dell'ordine Santino Franchina. La firma sarà posta a margine dell'incontro sul tema IUS variandi recesso che si svolgerà al Dipartimento Cultura e Servizi dell'Ordine degli Avvocati a partire dalle 10, un appuntamento che fa parte della formazione permanente obbligatoria tanto per i giornalisti quanto per gli avvocati, relatori dell'incontro organizzato da AGGI, dall'Ordine degli Avvocati, dall'Ordine dei giornalisti, i giornalisti Daniele Loporto, segretario della Sostampa di Catania, Gioia Sgarlata che modererà i lavori, e l'avvocato Giussi Tomasello, gius lavorista ed esperto in diritto dell'informazione. L'Italia in materia di diffamazione a mezzo stampa è al momento fuori parametro cedu, sia perché prevede ancora la pena detentiva, sia perché le pene pecuniarie sono spropositate, non commisurate alle condizioni economiche del giornalista e dunque con effetti negativi sulla libertà di espressione. Il protocollo sarà un punto di partenza per fornire assistenza legale specialistica, in casi particolari anche gratuita, per cui giornalisti che pur avendo agito correttamente e in buona fede devono affrontare a loro spese giudizi civili e penali per diffamazione. L'ordine degli avvocati si impegna a sensibilizzare i propri iscritti e a tentare altre strade di mediazione, in particolare la richiesta di rettifica, prima di avviare eventuali procedimenti a carico dei cronisti.